A occidente di Arkham, le colline si innalzano all'improvviso. Tra valli e boschi profondi che non hanno mai conosciuto la scure. Vi sono macchie strette e buie, dove gli alberi si inerpicano in maniera fantastica e i ruscelli non hanno mai visto la luce del sole. Sui pendii più dolci sorgono antiche fattorie di pietra e tozzi cottage coperti di muschio, che meditano da secoli sui segreti del New England, a riparo di grandi costoni di roccia. Si tratta per la maggior parte di costruzioni ormai disabitate. La gente che ci abitava è andata via. Il motivo non è qualcosa che si veda, si senta o si possa toccare. Ma anzi, è qualcosa che si immagina soltanto. Se tratta per la maggior parte di costruzioni ormai disabitati della scure.